E' terminata da pochi giorni la tornata di elezioni regionali e comunali 2015, che ha coinvolto molte delle città italiane. E se l'astenzionismo e una generale disaffezione politica sembrano esser stati i fenomeni dilaganti delle elezioni appena trascorse, c'è da chiedersi qual è, ad oggi, lo stato di salute dei partiti italiani. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Canfora, presidente della provincia di Salerno, nonché esponente della coalizione di centro-sinistra. C'è stato un calo di consensi che ha riguardato un poco tutti i partiti politici, non soltanto il Partito Democratico. Si aumenta l'astenzionismo e aumenta proporzionalmente il mancato consenso alle forme di partito. Se è vero che il Partito Democratico ha perso circa 2 milioni di voti, è anche vero che il Movimento 5 Stelle ne ha perso altrettanto, circa 1 milione e 800 mila, che forse Italia perde ancora. Voglio dire, è una crisi politica strutturale, nel senso che le persone si allontanano dalla politica nel momento in cui non vedono risolti i propri problemi. Insomma, bisogna ritornare, so che è semplice e facile fare un po' di retorica, ma bisogna ritornare tra la gente e ascoltare la gente, ascoltare i problemi delle persone, altrimenti da questa sfiducia non ce ne usciamo. Poi ci sono tantissimi scandali che da oltre dieci anni, con un ritmo quasi logaritmico, si ripetono, per cui questo non fa altro che allontanare le persone. Insomma, c'è bisogno che i partiti e la politica ripensino sicuramente a tante cose. E come vede invece la vittoria di Servalli a Cava dei Tirreni? Beh, è una grande e splendida vittoria. Enzo Servalli è una persona semplice, insomma, un uomo di valore, ha vinto con una campagna elettorale coraggiosa e proponendosi come un sindaco di tutte le persone, tutta la gente, insomma. Quindi sicuramente è stato anche capace di costruire una buona alleanza, è stato anche capace di proporsi alle persone come il sindaco dell'asfolta, quindi onore a lui e tantissimi auguri di buon lavoro.